Musica Una grandissima partecipazione di tutte le categorie, moltissimi giovani, anche nella categoria rappresentata. Cosa vuole dire agli iscritti alla CISL Funzione Pubblica e in generale a chi vedrà questo video? Che la CISL sa stare ai tavoli, sa decidere e non smarrisce mai un temesse primario del Paese che unisce sempre a quello dei lavoratori. Simonetta Ilfi, ospedale di Marina, Slarmh. Sono sempre presente ad ogni manifestazione CISL. Allora, noi siamo qua a sostegno dei nostri colleghi della sanità privata e comunque anche per far sentire la nostra voce a tutte le istituzioni. Anche se oggi è sabato siamo qui a dare il nostro supporto, quindi è una presenza credo importante per tutti noi qui. Basta! E' una partecipazione straordinaria e io sono sicuro che i risultati al termine della mattinata ci incoraggeranno ad andare avanti perché c'è da costruire anche per buona parte il sindacato del futuro. Nello blu, dipinto di blu, per tutti stai l'assù. Ma tutti sono, sono, non è il risultato per te. E' una partecipazione straordinaria e io sono, non è il risultato per tutti stai l'assù. Insieme nel blu, felice di stare l'assù. Non siamo, e ritorniamo sulle labbra per qualche anniversario per ogni nuovo caduto che ci raggiunge nella fossa. Non ne siamo, confusi, scordati, invendicati, ma ogni nuovo numero era un Cristo, mortifizio per due sol. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. della terza età. A seguire ho lavorato in ospedale presso un centro emodialisi per 11 anni e ho anche lì assistito pazienti che a giorni alterni necessitavano del lavaggio dell'utrosangue per vivere. Ma non per questo mi devo sentire offesa profondamente da chi ha costruito un'immagine dell'impiego pubblico che non corrisponde poi alla realtà e che invece è frutto di sacrifici e di impegni costanti. Chiedo un intervento forte, costante, sempre maggiore nella CISL a sostegno degli impiegati pubblici di tutte le categorie e soprattutto al servito per poter ottenere il necessario riconoscimento sia moralico che economico. Perché io faccio anche parte della Caritas e la gente viene a piangere, chiede roba che non neanche ci possiamo dare e vederle mi fa male al cuore, perciò io chiedo che si faccia tanto di più di quello che è stato fatto. Grazie, sono Massimiliano, ho 43 anni, sono sposato a due figlie, la mia famiglia è una famiglia monoreddito, sono un lavoratore precario della Polizia Municipale del Comune di Roma e faccio parte di un gruppo che si compone di 500 lavoratori precari, nel più grande bacino i 2.000 lavoratori precari del Comune di Roma. Il nostro sindacato e sottolineo con vigore il nostro sindacato, questa è la differenza che rende forte la CISL e da sempre in prima linea nella dura battaglia alla lotta del precariato. Grazie CISL, dico grazie per quanto svolto fino ad ora, ma il ringraziamento di oggi non deve essere un punto di arrivo, deve essere lo stimolo a migliorare tutti insieme quanto già ottenuto. Il momento del segretario generale Raffaele Bonanni che ha toccato anche e pesantemente i temi del pubblico impiego, qual è il commento al termine di questa giornata? Che ancora una volta la CISL attraverso il suo segretario generale richiama due questioni al Paese e alla politica, la responsabilità personale, locale, dei lavoratori, dei cittadini, delle imprese a costruire un federalismo delle opportunità per tutti. E la seconda è il coraggio, un Paese non può fermarsi in questa fase difficile a ragionare e recriminare tra maggioranza e opposizione, opposizione debole e maggioranza che non ha il coraggio di fare scelte di contenuto. Noi che rappresentiamo 3 milioni di lavoratori siamo convinti che si possa mettere insieme la capacità di lavorare bene, fare buoni servizi per i giovani, gli anziani, per le imprese in tutti i territori costruendo e mettendo dentro al contenitore vuoto del federalismo una nuova comunità di servizi capace di lavorare meglio spendendo di meno, facendo pagare meno tasse e seguendo e informando il cittadino dalla nascita alla morte. È la nostra scommessa che vogliamo aggiungere a questo grande impatto che il federalismo può portare solidale nel nostro Paese. Grazie a tutti!